Anche se il Carnevale ormai è un argomento archiviato, perlomeno lo sono gli aspetti strettamente legati a questa edizione con tutto il corollario di annessi e connessi, alcuni eventi realizzati in queste tre settimane mostrano ora i loro frutti. Carnevale e solidarietà a Fano sono sempre andati a braccetto ed il Carnival Party del Rotarat Club Valle del Metauro ne è l'ennesima conferma. I giovani rotariani da tempo hanno deciso che questo evento festoso dovesse anche avere una finalità benefica come nel loro stile. Quest'anno a beneficiare di questi fondi, 800 euro raccolti durante la serata in maschera, è stato il laboratorio Batticinque che si occupa di bambini affetti da autismo che ha potuto così allestire un'altra aula dedicata all'apprendimento. Il centro, situato in via delle Vele 14 a Gimarra, è nato grazie alla campagna Fare Imprese nel Sociale, ideata e condotta dalla fondazione I Bambini delle Fate, sbarcata nelle marche soltanto un anno fa, con il sostegno al progetto di Onfalos Fano in Blu di una squadra di capitani coraggiosi, imprenditori che hanno deciso di investire nel sociale a sostegno di progetti importanti. Siamo veramente molto soddisfatti del risultato ottenuto, anche perché ci tenevamo, come ho già detto prima, a dare un risultato concreto e tangibile. Infatti ci troviamo proprio nella stanza che siamo riusciti a realizzare grazie al contributo raccolto di 800 euro, vorrei ricordarlo, perché grazie ovviamente non solo a noi che abbiamo organizzato l'evento, ma soprattutto ai partecipanti che siamo riusciti proprio a realizzare questa aula educativa. Ecco, la cosa bella è stata anche l'interazione con i componenti del Vatticinque, perché sono venuti proprio anche loro alla festa. Sì, infatti è stata per noi una bella sorpresa, perché pensavamo di non riuscire ad averli come nostri ospiti e invece ce l'abbiamo fatta. Si sono anche divertiti, quindi anche i feedback sono stati sicuramente molto positivi ed è stata una serata divertente anche per tutti quanti. Nel centro vengono seguiti dalle 14 alle 19 di sera 29 pazienti che traggono continuità così con il sostegno che hanno ricevuto durante la mattinata a scuola. Questo rapporto è nato un po' per caso, quando il responsabile della campagna della Fondazione Bambini delle Fate stava cercando sul territorio di Fano aziende da coinvolgere. In realtà ha incontrato questo gruppo di giovani dinamici che come tutti i giovani hanno voglia di divertirsi, però hanno anche voglia di fare qualcosa di buono e così ci hanno chiesto di cosa avevamo bisogno. Noi avevamo questa intenzione di aumentare l'offerta del nostro laboratorio ed è nata questa bella iniziativa. Ci sono altre attività prossime per far conoscere quello che è il vostro mondo e soprattutto aiutare le persone a non sentirsi sole in questo sicuramente universo complesso. Sì, nell'ambito delle nostre raccolte fondi noi ogni tanto ci inventiamo una manifestazione nuova. Anche quest'anno riproporremo a Marotte Mondolfo una mezza maratona che farà da prodromo alla Colle Marathon, i cui esponenti tra l'altro ci hanno dato una grossa mano per cui vi invitiamo tutti l'8 aprile a Mondolfo. Il centro è a disposizione con i suoi educatori anche per fornire assistenza ed orientamento a quelle famiglie che si devono confrontare con la malattia e necessitano di assistenza per non sentirsi navi sole nella tempesta. Che possono prendere così contatto con la struttura attraverso il numero di telefono 0721 827159 dalle 14 alle 19 di ogni giorno. Quello che magari siete più abituati a vedere.